Tanto do il benvenuto e la benvenuta a tutte e tutti noi che siamo qui per riprendere il percorso della campagna Riprendiamoci il Comune che dopo gli appuntamenti con la raccolta delle firme per le due leggi di iniziative popolare che hanno contraddistinto la scorsa semestre, diciamo così, ha deciso e mi piace sottolineare che si tratta di una decisione presa collettivamente da tutte le persone che hanno contribuito a portare avanti la campagna nei mesi passati di riprendere la propria attività ripartendo dalla sensibilizzazione e ancora di più dalla formazione su scala territoriale, tant'è che abbiamo promosso questo ciclo di quattro incontri formativi che ci vedono impegnati non soltanto come attivisti della campagna ma anche e vedo dai nomi che compaiono come persone presenti sui territori dove ricoprono o non ricoprono anche in carichi di tipo istituzionale all'interno delle amministrazioni locali e questo mi sembra già un bel segnale per poter partire, siamo in questo momento a quota 90 partecipanti mi pare che la risposta probabilmente ancora non definitiva se aspettiamo qualche minuto sia stata comunque importante, importante perché riteniamo fondamentale e anche per poter autoformarci su alcuni argomenti che sono il cuore e sono stati il cuore della prima parte della nostra campagna, quella che abbiamo portato nei territori chiedendo alle persone, alle cittadine e ai cittadini di sostenere le due leggi di iniziativa popolare che avevano come argomento la nuova finanza pubblica locale e il tema della cassa depositi e prestiti approfitto e poi passo alla rapida elencazione dei temi dei quattro nostri appuntamenti formativi per ricordarvi anche questo dettaglio tecnico su cui vi chiedo di essere estremamente attenti cioè durante tutta quella parte di lezione in cui saremo impegnati con la relazione di Marco Bersani per favore togliete, disattivate l'audio dai vostri collegamenti perché è estremamente importante non avere ritorni che sono non solo fastidiosi ma che rischiano anche di farci perdere alcuni dei contenuti che verranno esposti sia per noi che siamo qui in diretta sia per chi poi ascolterà la registrazione di questa puntata formativa che ripeto ha come tema centrale la cassa depositi e prestiti tant'è che il titolo per questa sera come sapete è cos'è cassa depositi e prestiti e perché è centrale per una nuova finanza pubblica nazionale e locale il relatore è Marco Bersani di Attacchitalia i quattro venerdì che contraddistingueranno consecutivamente questa formazione proseguono poi con lunedì 27 novembre stessa ora stesso link con Simona Repole che molti di noi e voi conoscono per la sua instancabile attività su questo versante anche di formatrice sul tema visto che si tratta del suo lavoro che è come leggere e capire i bilanci comunali quindi un qualche cosa che unisce l'aspetto anche tecnico a questa formazione che ha un carattere anche di contestualizzazione più ampia tecnica e politica del tema appunto della nuova finanza pubblica locale che interessa a chi sta portando avanti la campagna Riprendiamoci il Comune affinché poi venga portata sui territori il 4 di dicembre sarà il turno del terzo appuntamento la finanza dei comuni tra PNRR e il ritorno il primo gennaio 2024 ricordiamo del patto di stabilità quindi gli europei che ritornano a fare il capolino proprio all'interno delle nostre vite andremo a portare lunedì 11 dicembre mentre invito ancora una volta a togliere e a disconnettere l'audio dai vostri collegamenti lunedì 11 dicembre il project financing andrà a chiudere tra virgolette in bellezza i nostri appuntamenti quindi cos'è la finanza di progetto e perché è pericolosa questi sono i temi che andiamo compattamente ad affrontare in questi 4 sguardi che daremo settimana per settimana non mi dilungo oltre se non per dirvi che lascio la parola a Marco Bersani attacchitalia che ci parlerà di che cos'è la cassa depositi e prestiti e del perché è centrale per una diversa finanza pubblica nazionale e locale se ritenete visto che andrà in registrazione potete anche segnalare la vostra presenza con nome e cognome e il da dove vi siete collegati e se avete eventualmente un ruolo sia come attivisti sia come cittadini o come amministratori locali all'interno della nostra chat che è ovviamente accessibile a tutte e tutti lascerei a questo punto la parola a Marco Bersani per l'inizio della sua relazione che durerà circa tre quarti d'ora e sarà poi seguita da un momento in cui sarà possibile rivolgere al relatore questo sarà lo schema fisso di tutte e quattro i nostri appuntamenti domande per chiarimenti, approfondimenti e quant'altro parola quindi a Marco e buon inizio di corso a tutte e tutti quanti grazie bene, ciao a tutte e tutti, bentrovate, bentrovati diciamo che il mio compito oggi è un po' aiutare a conoscere questo diciamo sorta di mostro finanziario che agisce sull'intera economia nazionale e non solo che si chiama Cassa Depositi e Prestiti ha molto a che fare con la vita quotidiana delle persone a partire dal fatto che nel nostro paese sono oltre 20 milioni le persone che affidano i loro risparmi alle poste attraverso libretti di risparmio postale o buoni fruttiferi postali che dalle poste vengono poi consegnati per la gestione a Cassa Depositi e Prestiti io comincio da una brevissima storia di Cassa Depositi e Prestiti con alcune date in modo che proviamo a capire anche perché è un'istituzione molto molto antica nasce nel 1850 quindi prima dell'unità d'Italia nasce col regno di Sardegna allora il suo compito era raccogliere diciamo capitali dagli enti pubblici quindi aveva più la funzione di deposito capitali che poi venivano investiti nelle opere pubbliche il primo passaggio avviene nel 1875 quando nascono i libretti di risparmio postale e Cassa Depositi e Prestiti diventa Cassa Depositi centrale del risparmio postale cioè da quel momento ogni ufficio postale del paese emette libretti di risparmio postale quindi le persone affidano i loro risparmi e Cassa Depositi e Prestiti diventa soggetto unico cioè viene unificata con tutte le varie casse di risparmio allora esistenti in diversi territori nel 1898 Cassa Depositi e Prestiti diventa direzione generale del Ministero del Tesoro fino ad allora era un ente che faceva riferimento a diversi ministeri il Ministero allora si chiamava delle opere pubbliche anche il Ministero dell'Interno dal 1898 invece entra a pieno titolo nel Ministero del Tesoro e diventa una direzione generale del Ministero del Tesoro cioè una sorta di ufficio un dipartimento del Ministero del Tesoro nel 1924 ai libretti di risparmio postale si aggiungono i buoni fruttiferi postali che sono la seconda modalità con la quale si possono affidare i propri risparmi a Cassa Depositi e Prestiti mentre e diciamo da lì la storia va avanti ovviamente le finalità di Cassa Depositi e Prestiti si modificano anche a seconda di quello che succede c'è la seconda guerra mondiale però diciamo non cambia né la modalità né l'istituzione fino al 1983 quando Cassa Depositi e Prestiti diventa ente pubblico quindi si sgancia sostanzialmente dall'essere dipartimento del Ministero del Tesoro e diventa un ente pubblico con organizzazione patrimonio e bilanci separati dallo Stato è ancora un ente pubblico a tutti gli effetti quindi non siamo ancora nel versante delle società per azioni dieci anni dopo nel 1993 a Cassa Depositi e Prestiti viene attribuita personalità giuridica e dopo altri dieci anni qui siamo al 2003 avviene la svolta cioè nel 2003 il governo Berlusconi Ministro Tremonti Cassa Depositi e Prestiti diventa società per azioni allora è stato giudicato un passaggio inevitabile motivato col fatto che bisognava togliere Cassa Depositi e Prestiti diciamo dal perimetro dello Stato e del pubblico perché questo se no avrebbe fatto aumentare il debito pubblico italiano Cassa Depositi e Prestiti ovviamente gestisce soldi delle persone e quindi come dire è un ente tra virgolette indebitato che questa non fosse la vera motivazione ce lo dicono per esempio le sorelle di Cassa Depositi e Prestiti in Germania, Francia e Spagna cioè anche in questi tre altri paesi esistono soggetti analoghi alla Cassa Depositi e Prestiti e peccato che in Germania la Cassa Depositi e Prestiti è per l'80% dello Stato e per il 20% dei lender cioè delle regioni mentre in Francia e in Spagna la Cassa Depositi e Prestiti è totalmente un ente pubblico dello Stato e quindi il passaggio della trasformazione in società per azioni non può essere giustificato come elemento tecnico per far uscire Cassa Depositi e Prestiti al bilancio dello Stato perché in realtà era già fuori del bilancio dello Stato quando era divenuto ente pubblico con organizzazione, patrimonio e bilancio autonomo e come dimostrano appunto le sorelle di altri paesi possono esistere enti pubblici che non rientrano nel bilancio dello Stato e quindi il passaggio a società per azioni va considerato come parte della strategia di privatizzazioni che in quei 10-15 anni dal 1990 in avanti hanno attraversato il nostro paese hanno prodotto la privatizzazione di tutto il sistema bancario e finanziario e quindi anche la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti Cassa Depositi e Prestiti nel 2003 diventa società per azioni il capitale sociale ad oggi è così diviso l'82,77% del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 15,93% è delle fondazioni bancarie poi c'è un 1,30% che sono azioni proprie nel momento della privatizzazione vengono fatte entrare nel capitale sociale le fondazioni bancarie fondazioni bancarie che come saprete sono nate nel 1990 con la legge Amato Carli lì siamo nella fase della privatizzazione del sistema bancario quindi vengono istituite le fondazioni bancarie che diventano sostanzialmente i soci di maggioranza delle banche privatizzate fondazioni private sono enti di diritto privato senza scopo di lucro ma rientrano nel capitale sociale delle banche privatizzate quindi c'è già una prima anomalia perché nel momento in cui io rendo Cassa Depositi e Prestiti una società per azioni quindi la metto sostanzialmente dentro il mercato è strana questa idea di far entrare nel capitale sociale di Cassa Depositi e Prestiti esattamente le fondazioni bancarie che erano i maggiori azionisti delle banche privatizzate cioè una sorta di cavallo di troia per cui quelli che dovrebbero essere dei competitori sul mercato in realtà entrano nel capitale sociale tra l'altro ci entrano con una serie di privilegi perché le fondazioni bancarie entrano comprando azioni privilegiate le azioni privilegiate sono quelle che danno diritto a una priorità nella distribuzione degli utili a una priorità su una serie di passaggi ma in quanto privilegiate di solito non danno uguale diritto di voto nelle assemblee e invece anche qui molto stranamente le fondazioni bancarie comprano azioni privilegiate ma mantengono uguale diritto di voto delle azioni ordinarie ottengono il diritto di recesso assicurato da un patto di riacquisto a termine da parte dell'allora Ministero del Tesoro alle stesse condizioni di acquisto e ottengono anche un dividendo garantito commisurato al tasso di inflazione più il 3% garantito quindi diciamo per essere un'operazione che vuole aprire un ente pubblico al mercato diciamo che le fondazioni bancarie vi entrano con una remuneratività totalmente garantita oltre tutti i vantaggi fiscali che derivano dal far parte di Cassa Depositi e Prestiti ma che cosa cambia con il passaggio a Società per Azioni? Prima sostanzialmente Cassa Depositi e Prestiti aveva un unico compito che era quello di raccogliere il risparmio postale risparmio garantito dallo Stato e utilizzare questa enorme massa di denaro per finanziare gli investimenti delle amministrazioni pubbliche cioè i comuni, province, regioni anche lo Stato diciamo in misura prioritaria soprattutto i comuni quindi gli enti locali il fatto che i risparmi affidati a Cassa Depositi e Prestiti venivano remunerati con un tasso di interesse molto basso dovete mettervi nella mentalità del risparmiatore gli italiani non erano broker che mettevano i soldi per poter avere performance del 10-15% mettere i soldi alle poste era ed è tuttora un modo sostanzialmente di avere quei soldi garantiti quindi il tasso di interesse molto basso permetteva quindi a Cassa Depositi e Prestiti di finanziare gli investimenti dei comuni a tassi agevolati se qualsiasi comune in cui abitate ha un acquedotto ha delle reti stradali ha un trasporto pubblico ha un sistema di fognature diciamo ha una serie di opere pubbliche comprese le scuole gli ospedali eccetera eccetera è dovuto a questo semplice meccanismo risparmio postale dei cittadini viene raccolto da Cassa Depositi e Prestiti che lo utilizza come leva finanziaria a tassi agevolati per permettere gli investimenti dei comuni questo fino al 2003 dal 2003 cambia cambia diciamo il profilo di Cassa Depositi e Prestiti cioè quando diventa una società per azione intanto si aggiunge un altro compito il compito precedente rimane poi vediamo come si modifica ma si aggiunge anche il ruolo di finanziare in prima fase opere infrastrutturali utilizzando risorse raccolte sul mercato senza garanzia dello Stato quindi alla gestione dei risparmi dei cittadini si affianca risparmi cittadini che hanno la garanzia dello Stato si affianca un secondo ruolo che è quello di andare sostanzialmente a cercare sul mercato finanziario capitali per finanziare infrastrutture opere pubbliche una serie di altre di altre attività da quel momento questa seconda funzione si chiama gestione ordinaria mentre la funzione quella storica quindi quella legata al finanziamento degli investimenti delle pubbliche amministrazioni si chiama gestione separata attualmente Cassa Depositi e Prestiti come raccolta del risparmio postale ha una raccolta pari a 282 miliardi tenetelo a mente perché quando sentite dire che i soldi non ci sono è immediatamente smentito a parte che la ricchezza complessiva del nostro paese ci dice che i soldi sono tanti persino troppi direi il problema è che stanno tutti nelle mani sbagliate o sono utilizzati diciamo per finalità non di interesse generale tenete conto che solo come risparmio postale Cassa Depositi e Prestiti ha in pancia 282 miliardi che ovviamente non sono 282 miliardi per la spesa pubblica perché sono i risparmi dei cittadini ma immaginate con una leva finanziaria così enorme quante cose si potrebbero fare in direzione per esempio di un nuovo modello sociale e ecologico a partire dai comuni vi invito sempre a tenere spenti i microfoni per capirci come è cambiato il profilo basta dare un occhio velocissimo alla biografia del presidente e dell'amministratore delegato attuali il presidente si chiama Giovanni Gorno Tempini laureato in economia alla Bocconi con esperienze di lavoro presso JP Morgan intesa San Paolo nonché amministratore delegato di numerose società finanziarie che operano ovviamente sul mercato l'amministratore delegato è Dario Scannapieco laureato alla LUIS lui arriva dal pubblico è stato un dirigente del ministero dell'economia peccato che è stato un dirigente del ministero dell'economia negli anni delle privatizzazioni tant'è vero che dirigeva il dipartimento finanza e privatizzazione per semplificare diciamo che è un draggy boy e nel suo curriculum possiamo dire che ha direttamente partecipato alla privatizzazione di Telecom di Enel di Autostrade dell'ente tabacchi dell'ente poligrafico di Alitalia ha partecipato alla collocazione in borsa di Finmeccanica e ha dato il via alla cartolerizzazione degli immobili pubblici ora sicuramente persona competente ma capite bene che se una persona con questo profilo è l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti avete capito qual è la mission di Cassa Depositi e Prestiti che cosa cambia quindi cambiano due cose uno la relazione con le amministrazioni pubbliche se fino a prima della trasformazione in società per azioni Cassa Depositi e Prestiti finanziava gli investimenti dei comuni a tassi agevolati da questo momento finanzia a tassi di mercato cioè si comporta con gli enti pubblici come qualsiasi altra banca non c'è quindi di più quel ruolo fondamentale che era anche giustificato dal fatto che Cassa Depositi e Prestiti si alimenta attraverso risparmio dei cittadini quindi è vero che dal punto di vista giuridico risparmio è un risparmio privato nel senso che ciascuno dei 20 milioni di persone che mettono i risparmi in Cassa Depositi e Prestiti quel risparmio è privato cioè è suo ma ovviamente anche diciamo in linea con la Costituzione che dice che si promuove il risparmio privato e diciamo l'utilizzo di questo risparmio privato per l'interesse pubblico quel tipo di cifra che aveva Cassa Depositi e Prestiti sparisce cioè diventa una banca come le altre non solo quello che cambia proprio come impostazione che mentre prima Cassa Depositi e Prestiti metteva la finanza al servizio delle comunità locali e quindi dei beni comuni quindi delle opere quindi dell'interesse generale adesso è esattamente il contrario cioè sono i beni comuni sono il patrimonio pubblico sono i servizi pubblici che vengono messi al servizio della valorizzazione finanziaria vi do solo alcune alcuni elementi anzi li vediamo nel proseguo della relazione la seconda cosa che cambia con la trasformazione in S.P.A. è che Cassa Depositi e Prestiti diventa un soggetto finanziario di mercato quindi non solo con gli enti locali ma diventa un soggetto che sta dentro l'economia e ovviamente l'economia totalmente liberalizzata oggi il gruppo Cassa Depositi e Prestiti vi dico solo diciamo le cinque macro società di Cassa Depositi e Prestiti dentro ciascuna di queste trovate decine centinaia di partecipazioni di fondi di piccoli piccoli e grandi investimenti perché è diventato ormai un soggetto tentacolare i cinque grandi gruppi sono CDP Equity che è una società al 100% controllata da Cassa Depositi e Prestiti e ha come compito di investire in imprese in società di gestione del risparmio e in fondi di investimento diciamo che Cassa Depositi e Prestiti lo chiama il suo contributo all'economia e alla crescita del paese per capirci gli investimenti su imprese più rilevanti sono nelle infrastrutture oggi Cassa Depositi e Prestiti ha intorno all'88% di autostrade per l'Italia nell'industria Ansaldo Energia e Fincantieri nelle costruzioni Saipem e WeBuild nella comunicazione digitale Open Fiber Nexi nel turismo la catena Roccoforti Hotel queste sono solo alcune diciamo delle partecipazioni di CDP e Equiti ma che danno l'idea di che cosa che Cassa Depositi e Prestiti interviene nei capitali di imprese così come sono cioè non c'è dietro un disegno di per esempio riconversione produttiva della società per rispondere ai bisogni ecologici ai bisogni sociali si entra nel capitale di imprese semplicemente sostanzialmente per una sorta di favorire la crescita del paese e ovviamente con ritorni di remunerazione la seconda società si chiama cdp reti ed è la società che gestisce snam gestisce italgas e gestisce terna cdp reti è solo per il 59,1% in mano a Cassa Depositi e Prestiti poi c'è un 35% che è in mano alla Cina cioè una società cinese e il 5,9% ha una serie di piccoli investitori istituzionali italiani non piccoli investitori istituzionali italiani che hanno quote piccole anche qui il ragionamento è snam italgas eterna sono assolutamente centrali per per esempio una riconversione del modello energetico del paese per l'abbandono dei combustibili fossili per l'apertura alle rinnovabili di fatto Cassa Depositi e Prestiti porta avanti snam italgas eterna come se la questione della riconversione ecologica non fosse all'ordine del giorno delle necessità del paese la terza società è Fintecna questa è controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti che cosa fa Fintecna assunzione gestione di smissioni di partecipazioni di società o enti operanti nel settore industriale immobiliare dei servizi cioè in pratica è una sorta di liquidatore di quello che nel mercato diciamo nel mondo industriale nel mondo immobiliare o nel mondo dei servizi non ha sostanzialmente mercato dentro qui per esempio ci sono i fondi con i quali Cassa Depositi e Prestiti si rivolge ai comuni per la cosiddetta valorizzazione del patrimonio pubblico cioè il ragionamento è caro comune tu hai i bilanci in rosso devi alienare il patrimonio pubblico peccato che oramai non hai più nemmeno il personale per poter fare la gara di alienazione patrimonio pubblico ci penso io cioè acquisisco i tuoi immobili e li valorizzo cioè li metto sul mercato allo stesso modo attraverso fondi di investimento si interviene sui servizi pubblici per esempio Cassa Depositi e Prestiti è dentro IREN che è una delle grandi società di privatizzazione dell'acqua e anche qui il ragionamento è quello della spinta che ti danno i vincoli di bilancio che ti dà diciamo tutte le politiche di austerità messe in campo a te comune quella di mettere sul mercato i servizi se fai delle multi utility e magari le collochi in borsa io Cassa Depositi e prestiti ti faccio da leva finanziaria cioè favorisco questo tipo di processi quando addirittura non entro direttamente nel capitale sociale di queste multi utility la quarta società è la Simest la Simest è per il 76% di Cassa Depositi e Prestiti per il 24% è di una serie di banche e imprese che cosa fa la Simest favorisce l'internazionalizzazione delle imprese italiane cioè le imprese che vogliono aprirsi al mercato quindi andare sui mercati esteri ricevono sostanzialmente una leva finanziaria sovvenzioni e supporto da Cassa Depositi e Prestiti anche qui l'elenco è sterminato delle imprese che utilizzano Simest quindi questo questa società di Cassa Depositi e prestiti e altrettanto indiscriminato è la tipologia delle imprese troviamo sia imprese innovative sia imprese da industria pesante anche qui senza alcuna strategia che indichi una sorta di visione del mondo l'ultima società è CD cioè CDP Real Real Asset 70% di CDP 15% di ACRI che è l'associazione delle casse di risparmio italiane e il 15% è di ABI che è l'associazione delle banche italiane sostegno questa società serve al cosiddetto sostegno alle politiche abitative valorizzazione del patrimonio pubblico e del turismo non vi sto a spiegare in che senso si sostengono le politiche abitative in che senso si valorizza il patrimonio pubblico in che senso si valorizza il turismo faccio solo notare che Cassa Depositi e Prestiti sta nel capitale sociale della catena alberghiera come si chiamava Roccoforte Hotel quindi diciamo stiamo parlando del turismo di lusso stiamo parlando di joint venture che vanno in quella direzione allora che cosa dire di questo di questo ragionamento uno i soldi ci sono due i soldi sono tanti ma vengono tutti utilizzati per sostanzialmente consegnare risparmio dei cittadini alla cosiddetta valorizzazione finanziaria cioè manca una visione che ovviamente non può avere Cassa Depositi e Prestiti in sé Cassa Depositi e Prestiti attualmente è un ente finanziario non bancario che opera sul mercato cioè è un S.P.A. certo l'82 passa per cento è del ministero dell'economia e quindi qualcosa vorrebbe dire ma che cosa è sfuggito in tutto questo processo ovviamente non è sfuggito ma è stato pianificato la fine sostanzialmente del ruolo di interesse generale che la Cassa Depositi e Prestiti ricopriva fino al 2003 allora è vero che oggi Cassa Depositi e Prestiti è una sorta di colosso per cui quando ci si approccia uno dice ma come facciamo a trasformare tutta quella cosa lì come si fa a modificare tutto certo non sono le idee e basta che muovono la società occorre cambiare i rapporti di forza dentro la società questo mi sembra evidente ma per andare in quale direzione una parte l'abbiamo detta con la campagna riprendiamoci comune cioè la proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo scritto che abbiamo proposto che cosa dice in buona sostanza dice che il risparmio dei cittadini quindi quelli che attualmente sono i 282 miliardi di risparmio postale deve essere utilizzato da una cassa depositi e prestiti che smette di essere un spa quindi che ricompra le azioni delle fondazioni che torna a essere un ente pubblico noi diciamo ente pubblico socialmente controllato perché non basta essere ente pubblico e mette a disposizione quell'enorme leva finanziaria per permettere agli enti locali ai comuni in particolare ma diciamo in generale alle articolazioni delle amministrazioni pubbliche sui territori per che cosa? noi diciamo per mettere trasformare le comunità territoriali in luoghi di un nuovo modello sociale ecologico e relazionale cioè c'è una visione del mondo che dice che ci sono alcune alcuni nodi senza prendere senza prendere ripeto i quali le cose non possono modificarsi c'è una crisi climatica c'è una crisi sociale c'è una crisi proprio anche dei territori dell'immagine di sé delle comunità territoriali c'è una sorta di spaesamento nel senso letterale ciascuno è spaesato cioè senza il proprio paese e noi diciamo per costruire un altro modello ecologico sociale e relazionale bisogna utilizzare i risparmi dei cittadini lo diciamo ovviamente dicendo che cassa depositi e prestiti quindi la parte di risparmio postale deve diventare un soggetto pubblico socialmente decentrato e socialmente controllato cioè vicino ai territori in modo che sia praticabile una gestione il più possibile partecipativa delle scelte e delle opere da mettere in campo per la difesa dei beni comuni per riassetto idrogeologico del territorio per la riconversione della filiera alimentare agroalimentare per la riconversione industriale eccetera eccetera e che quindi questo insieme trovi cassa depositi e prestiti per cui finisce il paradosso in cui siamo oggi e qual è il paradosso in cui siamo oggi che i cittadini mettendo i loro risparmi in cassa dei posti e prestiti stanno finanziando la propria espropriazione di patrimonio pubblico di servizi pubblici di beni comuni cioè mentre prima il nostro risparmio serviva a migliorare il paese serviva a fare gli acquedotti le scuole gli ospedali le fognature i parchi adesso il nostro risparmio serve a espropriarci di patrimonio pubblico servizi pubblici locali beni comuni eccetera eccetera l'altra proposta e poi finisco è il resto cioè quello che non riguarda il risparmio postale può essere fatta una banca pubblica per gli investimenti cosa che si può fare una banca pubblica per gli investimenti che sostanzialmente anche qui segua una visione della società abbiamo da cambiare il modello energetico abbiamo da cambiare il modello industriale abbiamo da cambiare il modello agroalimentare abbiamo un riassetto idrogeologico cui mettere mano abbiamo una serie di attività anche di ricerca culturali umanistiche da mettere in campo beh servono dei finanziamenti e allora ci vuole una banca pubblica per gli investimenti anche questa è una cosa possibilissima quindi che ne dicano ne dica la narrazione dominante se uno stato vuole può istituire una banca pubblica e quindi quello che oggi è un doppio filone di una cassa depositi e prestiti che ha perso per strada la propria utilità per l'interesse generale va ricomposto per cui cassa depositi e prestiti torna ma si rinnova a un ruolo di sostegno per il cambiamento delle comunità locali mentre la parte che oggi è quella di investimenti sul mercato tesi alla finanziarizzazione della vita della società e della natura può diventare la banca pubblica degli investimenti che guarda alla necessaria trasformazione in senso ecologico sociale e relazionale della società ovviamente ci sono moltissime altre cose da dire su cassa depositi e prestiti ma rischieremmo di entrare perché su cassa depositi e prestiti si fanno delle tesi di laurea tanto è ramificata però diciamo il senso e le cose fondamentali mi sembra di averle dette sono ovviamente disponibili ad approfondimenti o a richieste domande che vorrete fare questa questa questo corso viene registrato ma poi io le cose che ho detto proverò anche a scriverle in una maniera diciamo semplice e di agevole lettura in modo che poi ognuno se la possa portare a casa in qualche modo ecco quindi io per il momento mi fermerei qui grazie Marco grazie per la tua la tua lezione su cassa depositi e prestiti che credo abbia risposto bene alla come dire doppia configurazione che su questo tema veniva data veniva data nel titolo della tua trattazione per cui direi questo dopo aver invitato e ringrazio le persone che hanno già provveduto a segnalarsi in chat rispetto a questo che hanno e invitando ancora tutte e tutti a tenere spenti i microfoni mentre andiamo avanti io sarei un po' dell'idea che intanto diamo un termine proprio massimo di conclusione della serata perché è giusto che lo sappiamo e direi che non supereremo immagino riusciremo agevolmente le 19.30 sicuramente però ecco senza porre limiti alla curiosità e alla come dire richiesta che anche Marco faceva di interloquire per avere chiarimenti delucidazioni io sarei dell'idea che possiamo procedere non raccoglieremo più stimolazioni andremo avanti una per una quindi una domanda una risposta di Marco anche perché poi magari qualcuno potrebbe avere lo stesso tipo di domanda o un interrogativo simile da porre e potrebbe anche già trovare risposta in quello che Marco ci dirà prego anzi direi facciamo così per fare l'intervento rompighiaccio chiedo io direttamente a Marco quali sono i suggerimenti tu ne hai fatto un rapido cenno nel tuo excursus diciamo così storico e geografico della CDP quali sono i suggerimenti che possiamo trarre dagli esperienza degli enti equivalenti a CDP che ci sono all'estero in particolare in alcuni paesi europei grazie sì ma diciamo che in nessun posto c'è il paradiso quindi chiariamo subito che non è che negli altri posti diciamo le sorelle di cassa dei posti di prestiti sono perfette funzionano come vorremmo noi eccetera eccetera però intanto diciamo sono enti pubblici quindi non si non si conformano come società di tipo privatistico e quindi non hanno la necessità di una remunerazione del capitale investito che ovviamente modifica sia la visione degli investimenti da fare sia diciamo gli obiettivi degli investimenti stessi mi sembra di poter dire che per esempio in Germania il fatto che cassa depositi e prestiti tedesca sia delle regioni e dello Stato consente per esempio una diciamo accettabile perché poi secondo me bisognerebbe sempre andare oltre ma diciamo un'accettabile pianificazione o programmazione degli investimenti strategici in Spagna la cassa depositi e prestiti è vicina a quello che diremmo noi è tuttavia ancora una cassa depositi e prestiti potremmo dire mignon per capirci maneggia intorno a un decimo di quello che maneggia cassa depositi e prestiti nazionale la Francia cassa depositi e prestiti francese ha degli elementi positivi ma legati anche diciamo in Francia alla sopravvivenza di un'idea dello Stato anche come programmatore che non si è totalmente dispersa come in altri paesi anche se la stessa cassa depositi e prestiti francese è piena di contraddizioni proprio sul tipo di investimenti quindi diciamo non c'è un modello a cui riferirsi nel senso del facciamo come fanno lì in tutti i posti la dialettica la contraddizione tra l'interesse generale e gli interessi di mercato sono in campo nel nostro paese sono stati ampiamente bypassati facendo diventare addirittura cassa depositi e prestiti una società per azioni grazie Marco allora rispetto alle richieste di intervento faccio una premessa anche metodologica possono essere fatte sia con il metodo dell'alzata di mano elettronica che un paio di voi hanno già sperimentato sia anche in chat facendo precedere il proprio nome e cognome dall'asterisco quindi scrivere la propria prenotazione allora io adesso do la parola Elena Marianelli poi andremo a dare risposta a un paio di quesiti che arrivano dalla chat proprio per seguire l'ordine cronologico quindi invito già a prepararsi dopo questi a chi si chiama Gianni Locke nel nickname della nostra chat e anche a qualcuno che si è prenotato da un galaxy tab con la lettera per cui la parola ad Elena Maria Nelli primo quesito per Marco primo intervento grazie buonasera a tutti io ho una domanda un quesito mi chiedevo questo nel passaggio da cassa depositi e prestiti nei successivi passaggi è cambiato qualcosa per il singolo investitore cioè il risparmio in qualche modo viene remunerato a interessi di qualche tipo diversi questo grazie hai fatto bene a fare questa domanda in realtà la remunerazione del risparmio è sostanzialmente rimasta identica nel tempo in realtà con il passaggio alla società per azioni si è anche allargato il campo in cui si può utilizzare risparmio postale per interventi cioè mentre prima era il risparmio postale poteva essere usato solo per gli investimenti degli enti delle pubbliche amministrazioni adesso può essere utilizzato anche per investimenti messi in campo da soggetti privati che però diciamo rispondono a interessi a elementi di interesse generale che cosa cambia questa cosa cambia che parte del risparmio postale può essere utilizzato come capitale a rischio che cosa vuol dire perché se io finanzio un investimento privato e quell'investimento privato va male i soldi che ho messo è un capitale a rischio è a rischio per il risparmiatore no perché ovviamente il risparmio ha la garanzia dello Stato ma diventa un rischio per lo Stato cioè più si allarga il fronte dentro il quale Cassa Depositi e Prestiti può utilizzare il risparmio dei cittadini garantito dallo Stato per operazioni che non sono rivolte agli enti pubblici ma sono rivolte a soggetti di tipo privato nel caso questi investimenti andassero male deve ovviamente è lo Stato che interviene per tutelare il risparmio dei cittadini ma questo ovviamente aumenta il debito pubblico del Paese quindi per il risparmiatore non c'è né rischio né nuove prospettive il risparmiatore è quello che mette i soldi perché siano in qualche modo tutelati e questo gli viene garantito più però Cassa Depositi e Prestiti sta dentro una logica da mercato finanziario e utilizza anche la gestione separata per operazioni di questo tipo più diciamo tra virgolette è a rischio sono a rischio le finanze dello Stato grazie chiarissimo siamo quindi nella paradossale situazione che dovessero andare male gli investimenti se il risparmiatore è come sarebbe auspicabile anche un contribuente se li ripaga lui i costi di questi rischi bene leggo una domanda che ci fa Fabrizia Giannini in chat che ti chiede Marco se puoi dire qualcosa sul ruolo di CDP nel campo degli armamenti diciamo è più che un ruolo diretto nel senso che non è CDP ovviamente che produce armi però è chiaro che essendo dentro il capitale di Fincantieri ed essendo dentro il capitale di Ansaldo Energia nel primo caso Fincantieri produce anche per il militare per esempio le navi militari e nel secondo caso Ansaldo Energia produce anche o fa ricerca o fa sperimentazione anche rispetto al nucleare quindi sicuramente siamo siamo al ragionamento che facevo io nella nella relazione no? Cassa Depositi Prestiti sta dentro l'economia così com'è e l'economia così com'è comprende i combustibili fossili comprende gli armamenti comprende una serie di cose e quindi diciamo Cassa Depositi serve sostanzialmente alla crescita al mercato non serve ovviamente alla trasformazione dell'economia nel senso e nella direzione che vorremmo Bene mi auguro che ci sia soddisfazione per Fabrizia e per ciascuno e ciascuno di noi questa risposta di Marco che a me è parsese austiva do quindi la parola a chi ha alzato la mano a nome di Gianni Loc a cui chiedo anche di darci gli estremi completi del proprio nome e cognome di presentarsi quindi e di fare il suo quesito per Marco grazie Sì in realtà io mi chiamo Gianni Ruggeri e dunque semplicemente questo durante la campagna per riprendiamoci il comune ho trovato qualcuno che ha obiettato che in realtà Cassa Depositi e Prestiti continua a erogare prestiti a condizioni agevolate agli enti pubblici in particolare ai comuni io mi sono trovato accorto di dati di strumenti ecco la domanda è semplicemente questa è possibile reperire da qualche parte naturalmente io non sarei in grado di farlo non ci ho provato ma sono finito in un ginepraio senza uscita è possibile reperire da qualche parte dati su appunto sui tassi praticati da Cassa Depositi e Prestiti confrontati con quelli del sistema finanziario privato banche o enti finanziari qualunque sono grazie sì diciamo ora i dati su tutti i mutui accesi con i comuni non so se siano reperibili sicuramente diciamo ogni comune sa i mutui che ha acceso con Cassa Depositi e Prestiti Cassa Depositi e Prestiti fa mutui a tassi di mercato anzi siccome la gran parte dei mutui fatti con gli enti locali sono mutui di lunga durata quindi di 10 20 anche 30 anni ci sono molti comuni che sono in grande difficoltà perché pagano oggi dei tassi quasi da usura ora ultimamente i tassi di interesse sono tornati a salire ma diciamo un anno e mezzo fa due anni fa il costo del denaro era quasi zero e i comuni pagavano il 4,5 il 5% il dato che ti posso dare io è questo il peso degli interessi sui bilanci comunali poi ce lo dirà più precisamente Simona Repole nel prossimo incontro però se volete un dato gli interessi sul debito diciamo quindi sui mutui che in gran parte sono con cassa depositi e prestiti per i comuni è intorno al 12% del bilancio comunale e per i piccoli comuni arriva al 18% cosa vuol dire? vuol dire che quando un comune dice ho 100 se è un grande comune deve dire in realtà ho 88 perché 12 mi servono per pagare gli interessi se ho un piccolo comune addirittura deve dire ho 82 invece che 100 perché 18 mi servono per pagare gli interessi quindi diciamo il peso degli interessi sui bilanci comunali è ancora molto elevato e siccome quasi tutti i mutui cioè la gran parte dei mutui fatti dai comuni è con cassa depositi e prestiti ti confermo che normalmente i tassi di interesse di cassa depositi e prestiti non sono agevolati ma sono di mercato e spesso diventano ancora peggio di quelli di mercato per i motivi che vi ho detto grazie Marco mentre tengo un attimino in attesa chi si è prenotato con la mano alzata elettronica da Galaxy Tab A che poi ci dirà chi è vado a chiedere a Davide Ramoretti che ci chiedeva in chat come sostenere la vostra idea magari di dirci qualche cosa di più a voce perché la domanda posta così a me personalmente sembra un filino generica e quindi potrebbe essere un'idea quella che subito dopo l'intervento appunto che sto per aprire a cui sto per aprire tu possa Davide interloquire direttamente anche a voce con noi o in chat esplicitare un po' più ampiamente la tua domanda che ricordo era come sostenere la vostra idea intanto do la parola per il proprio intervento a chi ha la postazione Galaxy Tab A che invito a presentarsi grazie sì buonasera a tutti sono Mattia Gatti mi scuso della mancanza del nome sono segretario del SICET di Milano che è un sindacato inquilini abbiamo volevo solo porre questo tema noi abbiamo incontrato diciamo nella nostra strada Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente in quanto partecipa o in toto o in parte a fondi immobiliari sia di housing sociale sia risultato per esempio delle dismissioni di patrimoni come quello dell'ospedale maggiore a Milano e però iniziamo a sentire parlare di Cassa Depositi e Prestiti proprio in questi giorni a Milano come un possibile partner per una dismissione ancora più diciamo così preoccupante rispetto proprio al patrimonio di edilizia residenziale pubblica perché appunto si parla si inizia a parlare l'assessore con una certa diciamo così loquacità l'assessore di Milano PD Maran della possibilità di valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di una città come Milano con tutto quello che questo potrebbe determinare quindi volevo chiedere se su questi temi diciamo dell'intervento nelle politiche abitative o comunque dell'intervento nei fondi immobiliari diciamo c'era poter avere qualche riflessione o se c'era qualche qualche studio o qualche cosa di più che si può su cui ragionare sì molto chiaro ti confermo che uno dei settori di grande intervento di cassa depositi e prestiti è proprio il settore immobiliare ovviamente fatto con con l'idea della cosiddetta valorizzazione che poi vuol dire valorizzazione finanziaria e di rendita del patrimonio pubblico faccio un esempio per esempio per esempio cassa depositi e prestiti sta promuovendo i cosiddetti student hotel cioè i famosi studentati con i quali qualcuno pensa di tra virgolette dare risposta alle proteste degli studenti universitari che hanno messo le tende in piazza perché si ritrovano a studiare in città con affitti carissimi e cassa depositi e prestiti sta dietro le operazioni dei cosiddetti studentati di lusso e quindi ancora una volta il risparmio dei cittadini non va in direzione di una risposta al loro bisogno ma va nella direzione della cosiddetta valorizzazione finanziaria e quindi anche per esempio del riutilizzo del patrimonio pubblico ma riservato a una categoria minoritaria nonché privilegiata della popolazione anche tutti i progetti di housing sociale che a un certo punto cassa depositi e prestiti aveva fatto se uno va a vedere quelli realizzati sono quasi sempre in realtà progetti di tipo residenziale che non vanno a rispondere dei bisogni ma sostanzialmente vanno a rispondere a esigenze di mercato quindi sicuramente chi è in campo sul settore abitativo ha a che fare e avrà sempre più a che fare con questa cassa depositi e prestiti per cui diventa uno degli elementi da mettere in campo diciamo permettetemi un allargamento secondo me chiunque ha in campo una lotta prima o poi incrocia cassa depositi e prestiti se è una lotta territoriale contro una grande opera se è una lotta contro la privatizzazione dei servizi pubblici se è una lotta sul patrimonio pubblico o il patrimonio abitativo prima o poi incrocia se è una lotta ambientale prima o poi incrocia cassa depositi e prestiti per questo che la cassa depositi e prestiti è uno dei nodi su cui prima o poi tutte e tutti dovremmo occuparcene perché se non si affronta questo nodo sistemico è difficile diciamo invertire la rotta e pensare a una trasformazione profonda della società e del paese grazie grazie Marco Francesco Martino via chat innanzitutto scusate ho prima di Francesco Martino vediamo un pochettino perché la chat nel frattempo è proseguita e sono devo ritornare su ci diceva ritornando a fare solo investimenti nelle pubbliche amministrazioni nel pubblico non c'è il rischio per lo stato di depauperare il patrimonio di cdp e di non valorizzarlo quindi dipende che cosa vuol dire valorizzare o depauperare cioè fino a quando Cassa Depositi e Prestiti ha svolto quel compito i comuni e le comunità territoriali sono diventate in gran parte comunità che hanno che si sono evolute si sono modernizzate hanno avuto servizi hanno garantito coesione sociale e quindi diciamo quello è un arricchimento secondo me ovviamente non è un arricchimento di tipo finanziario ma è un arricchimento diciamo del del tasso di civiltà di una comunità territoriale e di un paese è chiaro che se io utilizzo il patrimonio pubblico e su quello devo fare profitti allora è più facile che ci faccio un albergo di lusso però il patrimonio pubblico è di una comunità e magari quella comunità ha bisogno di spazi culturali ha bisogno di servizi ha bisogno di nuove per esempio attività imprenditoriali innovative che vadano in una certa direzione e qui si tratta di decidere di chi è la titolarità del risparmio dei cittadini cioè se il mio risparmio io voglio che vada a contribuire al benessere della società o voglio che vada a contribuire agli interessi finanziari di pochissimi istante che il mio risparmio io lo riottengo con un tasso di interesse molto basso perché non non ho deciso di fare lo speculatore finanziario quindi io i miei soldi li ritrovo leggermente maggiorati perché il tasso di interesse è basso però se vanno in direzione di migliorare la comunità territoriale in cui vivo per me è meglio che non invece che vadano alla cosiddetta valorizzazione finanziaria che poi serve segmenti di lusso cioè qual è il senso di una joint venture che questo è uno degli esempi su cui è coinvolta Cassa dei Poteri Presti una joint venture col Qatar per costruire alberghi di lusso in Sardegna questa è una valorizzazione finanziaria ma la Sardegna che ne pensa noi che ne pensiamo la natura della Sardegna che ne pensa e quindi certo si tratta di decidere cosa vuol dire valorizzare se l'obiettivo è il mercato o se l'obiettivo è miglioramento della vita delle persone e delle comunità grazie Marco allora mentre invito Fabrizia Giannini a preparare la sua domanda a voce siccome Davide Ramoretti ha specificato meglio la sua richiesta ci ha scritto sono senza microfono dal pc mi spiace intendevo da privato come sostenere questa diversa idea della gestione di Cassa Depositi e Prestiti se c'è qualche comportamento virtuoso che Marco ci puoi citare comportamenti individuali virtuosi sono sempre un po' complicati certo uno può decidere che i suoi soldi li toglie dalle poste e li mette in altre situazioni diciamo di finanza etica questa è una delle possibilità l'altra cosa invece che ci si comincia a organizzare per esempio come utenti di Cassa Depositi e Prestiti perché mettiamo i risparmi per pretendere per esempio di avere voce in capitolo sulla destinazione dei risparmi che si affidano a Cassa Depositi e Prestiti ovviamente attualmente non c'è questa cosa però se diciamo nel tempo calcolate che 20 milioni di persone vuol dire uno su tre compresi i bambini quindi è una praticamente quasi tutto il popolo italiano se tutti i risparmiatori cominciassero a dire io voglio poter decidere dove va il mio risparmio stante che non c'è un guadagno individuale da portare a casa perché chi lo mette in posta riceve quel tasso di interesse e allora forse non essendoci interessi economici particolari forse organizzarsi e cominciare a dire noi vogliamo però che il nostro risparmio vada a finanziare questo piuttosto che quest'altro aprirebbe ovviamente un percorso che è un percorso molto lungo l'altra cosa è che comincino gli enti locali a organizzarsi per chiedere una diversa Cassa Depositi e Prestiti sia diciamo dal punto di vista finanziario quindi che applichi i tassi agevolati ma anche dal punto di vista di che cosa come vanno cambiate le comunità locali quindi anche sulle scelte precise che si fanno in quella direzione altra cosa è che sindacati grandi associazioni anche forze politiche comincino a dire che Cassa Depositi e Prestiti è sostanzialmente un bene comune vorrei far notare che anche la legge di privatizzazione del 2003 contiene ancora oggi l'articolo 10 che dice i finanziamenti alle pubbliche amministrazioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti sono da considerarsi servizi di interesse economico generale cioè vuol dire che la funzione di rispondere all'interesse generale è ancora anche se ovviamente diventa quasi uno simono ma è ancora contenuta persino dentro la legge che trasforma Cassa Depositi e Prestiti in oscita per azione grazie Marco allora lascio la parola a Fabrizia Giannini per la sua domanda online sì dunque mi sentite? ho il telefono prego ci sentiamo sì sì scusa ma in parte hai già risposto a queste ultime cose però ci provo un'altra volta allora noi abbiamo fatto questa battaglia per raccogliere abbiamo cercato di raccogliere le firme per presentare le lede sulla ripubblicizzazione di Cassa Depositi e Prestiti quindi adesso la raccolta di firme è andata come è andata e quindi ora cosa possiamo fare oltre alle cose che come cittadini come sindacati o quant'altro si possono fare ma adesso cosa possiamo fare? Diciamo che questa è la domanda delle domande e che nell'ultima riunione che avevamo fatto della campagna ci eravamo detti molti chiedono di approfondire i temi e di fare questa formazione al termine della quale capiremo insieme quali sono i prossimi passi da mettere in campo quindi mi dispiace non rispondere esaustivamente alla tua domanda ma è perché le risposte le dobbiamo trovare tutte e tutti assieme ok grazie la parola adesso a Luigi Paparesta che aveva alzato la mano niente hai già risposto anche nelle ultime due risposte perché effettivamente visto i tassi altissimi è impensabile che appunto dei comuni possono finanziare alcune attività con quei tassi per cui nasce normale la domanda perché non torniamo alla pubblicizzazione di Cassa Depositi e Presti io penso anche ad alcune attività come la rivalizzazione di quelle strutture sequestrate alla finalità organizzata se per valorizzarle bisogna chiedere i soldi a Cassa Depositi e Presti a quei test a quei test la logica lo stesso sentivo ieri la possibilità di andare a scavare a creare le miniere di Liguria mi viene da pensare che anche lì possa intervelire Cassa Depositi e Prestiti senza consultare i cittadini Marco sì sì direi che non è una domanda ma è una constatazione sì diciamo che oggi Cassa Depositi e Prestiti in realtà dovrebbe rispondere anche qui con un grande paradosso perché oramai è un soggetto completamente immerso nel mercato ma formalmente dovrebbe esistere una commissione di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe fare una relazione semestrale al Parlamento ora io non sono andato a vedere recentemente quindi non so se è stata istituita la commissione di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti dal nuovo governo so per certo che con il governo Draghi la commissione di vigilanza non esisteva e con quelli precedenti esisteva formalmente ma poi non si era mai riunita né Cassa Depositi e Prestiti aveva mai presentato da anni le relazioni semestrali Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto totalmente privatistico adesso quindi o la politica nel senso pieno del termine si riprende la parte diciamo di controllo e indirizzo perché poi l'82% del capitale sociale è il ministero del tesoro ma ovviamente non bastano i numeri anche perché lo stesso ministero del tesoro condivide quel tipo di filosofia quindi si tratta proprio di una di un percorso di inversione di rotta che dobbiamo mettere in campo e secondo me lo si può fare solo dal basso e a partire per esempio dagli enti locali che sono quelli che più hanno subito le politiche di austerità e che più sono in difficoltà perché sono l'interfaccia dei cittadini quando il cittadino ha un problema va dal sindaco non è che va in altri posti però oramai gli enti locali sono spesso ridotti a non poter dare risposte ai cittadini proprio perché sono ingabbiati dentro una struttura finanziaria che non permette investimenti e dentro una relazione con cassa depositi e prestiti che è una relazione di mercato e non di supporto benissimo allora io direi che possiamo procedere così intanto abbiamo raccolto già una serie di indirizzi mail a cui poi potremo inviare Marco il tuo scritto che va in qualche modo a riprendere insomma i contenuti della tua relazione di questa sera e invito chi ancora non l'avesse fatto a scrivere visto che poi in chat tutto viene registrato ovviamente se siete persone che hanno fatto parte del coordinamento che a livello nazionale abbiamo creato durante la campagna riprendiamoci il comune il vostro indirizzo mail è già all'interno della mailing list che abbiamo usato come sapete nei nostri appuntamenti quindi non è necessario ripeterla per quante quanti di voi invece sia in qualche modo la prima volta che ci intercettate bene procedete pure vedo che lo state facendo numerosamente e questo è un bene io direi che lasciamo ancora un attimo di tempo per capire se ci sono ulteriori richieste ma proprio un attimo perché in caso contrario io comincerei col preannunciarvi comunque quello che è il tema del prossimo incontro che vi ricordo essere tra sette giorni e cioè lunedì 27 novembre sempre alle ore 18 come leggere e capire i bilanci comunali con Simona Repole vedo che l'orario assaggiamente è stato posto in questo caso dalle 18 alle 20 perché si entrerà anche probabilmente in diversi meandri di tipo tecnico rispetto alla questione dei bilanci comunali e quindi ci potrà essere uno slittamento quindi invito ciascuno e ciascuno di noi a prepararsi anche dal punto di vista così dell'impiego del proprio tempo in modo tale da fare il possibile per poter essere presenti dall'inizio alla fine dell'incontro oggi ha ricordato via chat che comunque la registrazione è reperibile su Attacchitalia via Facebook e su Attacchitalia via canale YouTube dopodiché ci attrezzeremo affinché prossimamente questo succeda o forse Marco ha qualche ulteriore aggiunta da fare rispetto a questo nel qual caso ti invito a specificarlo nel mentre che ti lascio la parola per quanto riguarda come dire un tuo saluto finale dopo il quale la riprenderò io per accomiatare tutto il nostro gruppo non prima però di avere ricordato che Tatiana Bertini in chat ci ha appena ricordato come oggi fosse difficile entrare perché il collegamento non poteva superare le 100 persone collegate e siccome abbiamo iniziato con 90 e abbiamo toccato per diversi minuti un picco di 100 collegati cioè il massimo probabilmente qualcuno che è arrivato un po' più tardi è rimasto tagliato fuori cercheremo di capire come ovviare a questo perché devo dire con soddisfazione non solo qualitativa sull'andamento di oggi ma anche quantitativa sulla presenza di persone che hanno frequentato questa prima lezione del nostro corso insomma non avevamo forse quell'aspettativa sta di fatto che ci attrezzeremo per capire come andare a superare questa barriera che impone il gestore di questa tecnologia Lascio la parola intanto a Marco No intanto volevo dire anch'io che diciamo che su Youtube sarà disponibile però dovete ovviamente pazientare perché c'è un lavoro diciamo tecnico da fare però gli incontri saranno tutti poi visibili anche a chi oggi non ha potuto partecipare peraltro moltissimi a me hanno detto quel giorno non posso ma si potrà rivederlo eccetera eccetera quindi diciamo questo è un vantaggio poi capiremo se possiamo accedere a una piattaforma più ampia perché comunque la partecipazione diretta è sempre importante l'altra cosa che volevo dire è vi consiglio molto lunedì prossimo con Simona Repole perché chi la conosce sono sicuro che ci sarà ci sarà perché la conosce chi non la conosce Simona Repole ha il grande pregio di far sembrare semplice quello che a tutti sembra una cosa impossibile cioè che cos'è un bilancio non si capisce niente come faccio a leggerlo siccome Simona ha questa grande capacità vi invito anche solo per curiosità di scoprire che una cosa che vi sembrava totalmente enigmatica vi si schiarisce davanti agli occhi partecipate perché sarete favorevolmente sorpresi niente io non ho altro da dire nel senso che ringrazio tutte e tutti del reciproco scambio che abbiamo che abbiamo avuto questo è solo l'inizio di un percorso di approfondimento che faremo mi interessa sempre segnalare questa cosa per quanto certe cose ci sembrino lontane troppo grosse troppo distanti teniamo sempre in mente che c'entrano con la nostra quotidianità e che la nostra quotidianità può essere rovesciata ribaltata modificata se andiamo progressivamente a aggredire esattamente questi nomi cioè chi fa la battaglia per l'acqua prima o poi incrocia cassa depositi e prestiti chi fa la battaglia contro i caro affitti incrocia cassa depositi e prestiti chi fa la battaglia ecologista contro i combustibili fossili incontra cassa depositi e prestiti chi fa le battaglie contro la guerra incontra cassa depositi e prestiti chi fa le battaglie sulla casa lo stesso allora forse un giorno dovremo anche trovare le modalità per incontrarci capire tutte e tutti assieme come possiamo aggredire quello che è uno dei nodi sistemici di questo modello che ovviamente vogliamo cambiare e trasformare grazie a tutti e a lunedì prossimo con questo auspicio di Marco che è l'auspicio ovviamente di tutta la campagna riprendiamoci il comune io vi do appuntamento a lunedì prossimo per l'appunto alle 18 Simona Repole ci parlerà di come sono fatti i bilanci comunali mi viene da fare una similitudine molto fresca allora Marco dice che Simona è la persona che riesce a rendere facile e comprensibile tutto quello che ci sembra molto complicato una sorta viene da dire di Novak Djokovic dei bilanci comunali visto che come abbiamo appreso ieri sera questo uomo è riuscito a farci sembrare semplicissimo il tennis più difficile che si potesse giocare bene dopo questo paragone sportivo su cui mi permetto di salutarvi e con l'impegno di capire se si potrà modificare l'abbonamento per raccogliere anche più di 100 persone sperando che appunto e confidando nel fatto che ci siano fate passaparola se avete apprezzato questa sera al prossimo collegamento vi ringrazio e vi saluto a nome della campagna Riprendiamoci il Comune con un arrivederci a lunedì prossimo ciao a tutte e tutti